Amore da sillabario numero uno di Goffredo Parise Un giorno un uomo conobbe una giovane signora in casa di amici, ma non la guardò bene. Vide che aveva lunghi capelli rossastri, un volto dalle ossa robuste con zigomi sporgenti da contadina slava e mani tozze con unghie molto corte. Gli parve timida e quasi impaurita di parlare e di esprimersi. Il marito, un uomo tarchiato, con occhi sottili e diffidenti, in un volto rinchiuso pareva respirare con il collo gonfio e gli ricordò i ranocchi cantanti. Aveva però caviglie fragili e semili e le due cose, collo e caviglie, davano al tempo stesso un'idea di forza e di debolezza. L'uomo sapeva che queste prime impressioni quasi definitive non potevano esserlo del tutto perché si sentiva distratto e perché non era accaduto niente. Infatti quasi non si accorse quando uscirono dalla casa e non ricordò il timbro della voce di nessuno dei due. Passò del tempo e li rivide in un ristorante. Anzi vide soltanto la moglie, ritta presso il tavolo e nel gesto di sedersi. In quel gesto lei scostò da un lato, con un lieve scatto della grossa mano, ma poi lisciandoli, i capelli del colore delle carote sporche di terra. Fece questo, inarcando la schiena. Indossava un pigiama nero, una cintura di metallo dorato appoggiata ai fianchi, scarpette di vernice nera con una fibbia, e tuttavia per una fulminia coincidenza di ragioni tanto misteriose quanto casuali, era bellissima. L'uomo, che la guardava da un tavolo non vicino, sentì aumentare comicamente le pulsazioni del suo cuore, perché capì di avere capito tutto di lei. Anche lei capì tutto di lui, anche che lui capiva, perché in quello stesso istante si girò, lo riconobbe, lo salutò con un sorriso esultante, che subito e ingenuamente cercò di contenere entro i limiti di una buona educazione da adulti. Ma l'impeto di quel sorriso le aveva fatto staccare le braccia e le mani dal tavolo, e la punta delle scarpette di vernice premeva per terra per sollevarsi. Fu questione di un momento, poi la donna si rivolse ai suoi commensali, con volto gentile ma serio, spesso nascosto dai capelli, e le scarpette tornarono tranquille. L'uomo, invece, seguitò a guardarla, fino a quando le pulsazioni del suo cuore si calmarono. Allora la guardò, un po' meno incantato, un po' più curioso, come fosse e come avrebbe dovuto essere, un'estranea. Ma anche questo modo di osservarla, che avrebbe voluto tener conto di particolari banali, non fece che confermare la grande e naturale bellezza della presenza femminile, al punto che il ristorante gli parve deserto, o tutto al più avvolto in uno sfarfallio di colori e di suoni, come si vedeva in certi vecchi e forse brutti film. L'uomo si sentì improvvisamente debole e riconobbe i segni di una emozione, che da quando era bambino e vedeva sua madre salire da un giorno di limpido gelo, il collo sporgente dei renar con le puntine bianche, la bocca rossa e lucida, il neo sulla cipria, erano sempre gli stessi segni. Sollevò gli occhi dal tavolo, nello stesso momento in cui anche lei li sollevava obliquamente verso di lui, non più sorridendo, ma con il volto percorso da una vampata, ammaccato da un dolore imprevedibile e ingiusto che non capiva. Gli occhi erano mongoli, aperti, come se guardasse nel buio. Una sera insieme ad amici che nominarono quella coppia, l'uomo si sorpresa a dire a se stesso con voce alta per nascondere l'emozione «Il destino ci farà incontrare ancora». Gli amici non capirono a cosa si riferisse, ma pochi istanti dopo si udirono alcune automobili e una compagnia rumorosa e allegra in cui l'allegria non era completa e qualcosa al contrario la turbava entrò nella casa. Si guardarono per pochi istanti, anzi, si guardarono abbassando lo sguardo. Dopo i primi momenti di timidezza si parlarono. Lei disse che aveva studiato molti anni danza classica, ma che aveva abbandonato la danza quando si era sposata, dati gli impegni della famiglia. Ora ogni tanto provava una grande malinconia. Perché? Ma non lo so, forse le sarebbe piaciuto diventare ballerina. Mi sarebbe piaciuto, ma sa, pochi riescono. E poi mi sono sposata. Non capisco perché ogni tanto ho una grande malinconia, eppure sono felice. Amo molto mio marito e i miei figli, la nostra famiglia è perfetta, ed è per me la cosa più importante di tutte. È strano. Mio marito dice che ho un po' di esaurimento nervoso. L'uomo sapeva che non era strano, ma per rispetto e delicatezza non lo disse. Volse gli occhi verso il marito, che aveva visto così poco. Stava immerso in una poltrone avvolto con atteggiamento autoritario ottocentesco nel suo collo che respirava. Anche quello che diceva era autoritario. Ma le caviglie deboli toglievano ogni autorità al modo di dire le cose, e anche alle cose. E queste parevano uscire dal largo taglio della bocca, con soffi lievi irregolari che si perdevano nella stanza. Egli lo capì, e fece pressione dentro se stesso e nella poltrona, evitò di parlare, e cominciò in quel modo, e da quel momento, a gonfiare dentro di sé pazienza e astuzia. L'uomo osservò che la donna fumava e beveva molto. La sua voce lentissima, infantile, che esprimeva concetti elementari, era un po' rauca, di tanto in tanto tossiva, eppure la sua bellezza era limpida e intoccata, come non avesse avuto marito, figli, famiglia, e non avesse mai fumato né bevuto. L'uomo passava molto di rado per la città dove abitavano i due coniugi, ma la rivide ancora, tra due finestrini, mentre le auto correvano in direzioni opposte, e lei lo salutò, con lo stesso sorriso impetuoso di quella prima sera al ristorante. Ognuno guidava solo nella sua automobile, erano due automobili della stessa marca e dello stesso tipo, e tutti e due frenarono bruscamente. L'uomo aspettò che la strada fosse libera, girò l'automobile e si avvicinò a quella di lei, ferma sul lato opposto, ma appena giunse vicino la signora riprese a correre, ed egli la vite per pochi secondi nello specchietto, con un volto gonfio come di ragazzo che ha preso un pugno molto forte, e per questo la lasciò andare. Un giorno la donna gli telefonò da molto lontano per invitarlo a cena una domenica. Lui dapprima non capì di chi si trattava, poi fu preso insieme dalla sorpresa e dall'emozione. Le disse che avrebbe fatto centinaia di chilometri, molte volte, soltanto per vederla, e farfugliò un po'. Lei rispose che doveva mettere giù il telefono. Si rividero a una grande festa, il volto di lei nella grossa testa rotonda era bellissimo, impaurito e infelice, ma c'era anche in quel volto purtroppo un'ottusa superbia che lo ferì, e soprattutto ferì i battiti del cuore che rallentarono e diventarono normali. Quando ebbero occasione di parlarsi, ma lei lo sfuggiva, e lui ballò tutto il tempo con una donna bella che rideva rovesciando la testa, gli disse che era offesa e disgustata per quanto le aveva detto al telefono. Era felice, molto felice e innamorata del marito. Il loro matrimonio era una cosa superiore, eccezionale. Gli disse che aveva raccontato al marito di quella telefonata perché non c'erano segreti tra loro due. Nel dir questo, sorrisse con fierezza, ma il suo volto era tumefatto dal dolore e dalla vergogna, e due solchi erano apparsi agli angoli della bocca, fin quasi al mento. L'uomo guardò il marito che li aveva osservati di sottecchi, e ora si aggirava un po' curvo e ondulante, perdendo e conservando autorità. A un certo punto, si sedette su un gradino, fingendo di seguire la musica dell'orchestrina lì accanto, e con la gola e gli occhi rivolti all'insù, mandò un urlo acido, raspante, che nella confusione della serata nessuno udì. Improvvisamente la donna disse mi lasci stare, si scostò dall'uomo, inarcando la schiena e con passi dolorosi e danzanti, andò a posare la fronte contro i vetri di una finestra con il bicchiere di whisky in mano. Più tardi qualcuno disse che aveva pianto e fatto anche una scenata, forse perché aveva bevuto. Nonostante tutto, l'uomo fu invitato da loro a una grande cena ed egli non volle rifiutare per educazione e perché desiderava vederla ancora. Sedette alla destra di lei, che manteneva i solchi ai lati della bocca, gli parlava con sfida contadina e non sorrise mai, se non in un modo sprezzante, senza mai distendere il volto quella sconvolto da quei gonfiori. In due o tre occasioni accadde che le mani o le spalle dei due si toccassero, ma lei si ritrasse offesa. L'uomo stette bene attento che non accadesse mai più un simile caso e allontanò la sedia. Poi addirittura si alzò e girovagò un poco per la casa. Passando per un corridoio semibuio, ad ora inoltrata, incontrò una bambina in camicia da notte, sperduta, rossastra, come la madre, che egli carezzò sulla testa. La bambina gli prese subito la mano, se la posò sul petto, gliela strinse come accade nel sonno, guardando davanti a sé il corridoio con lunghi ciuffi di capelli addormentati in aria. Poi si staccò dalla mano di lui e andò chissà dove. L'uomo tornò nella grande sala da pranzo dove il marito distribuiva champagne. Lei stava sempre seduta a capotavola, forte e severa. Il marito sorrideva ed era buono e servizievole. L'uomo tornò sempre più di rado in quella città. Non vide più la coppia degli sposi. Pensò a lei e sempre gli parve che fosse passato molto tempo. Invece erano passati solo pochi mesi. Ma il sentimento che lui e la giovane signora avevano provato e qui descritto era tale che essi, senza volerlo e senza saperlo, avevano vissuto e disperso nell'aria in così poco tempo alcuni anni della loro vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.